Come per esempio lui che c'ha gli occhi bianchi di AeroBrain, oh mio Dio siamo contro AeroBrain, ma cosa pensi di fare contro l'imperatore AeroBrain, vatti a fare una passeggiata, va, uno, due, no, 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 due, perfetto, dai, qualcun altro, vuoi venire pure tu, vai, ok, ho ucciso AeroBrain e ucciderò tutti i tuoi compagni, chiaro? Ciao a tutti ragazzi, sono Kendall e benvenuti in questo nuovissimo video delle Bed Wars, oggi ci troviamo nei 40 contro 40 perché questa modalità vi piace veramente tantissimo Quindi lascia un bel mi piace già da adesso Billy, hai capito? Ti aspetto, dai forza, prendi il ditino e metti mi piace a questo video Tra l'altro ragazzi, oggi proprio prima di iniziare ve lo devo fare sapere perché è importante, non dormo da 32 ore Quindi se dovesse vedere, non lo so, qualche fail assurdo o se dovessi delirare da un momento all'altro, è quel il motivo probabilmente È perché ho bisogno veramente tantissimo di dormire, ma qua non siamo dei piagnucoloni, quindi adesso noi registreremo lo stesso questo video Vinceremo lo stesso questa partita e poi se ho un pochettino di tempo, qui vado a fare un bel riposino, mio dio non vedo veramente l'ora Allora, ci troviamo nelle 40 contro 40 delle Bed Wars e vediamo se mi ricordo ancora come si fa ad essere fantastico e potentissimo nelle Bed Wars Le 40 contro 40 vi piacciono molto per il semplice fatto che solitamente arrivo a fare tantissime uccisioni Infatti se non sbaglio in una partita ne avevo fatte 34 e quel video vi era piaciuto veramente tantissimo Quindi non dobbiamo fare altro che equipaggiarci per bene e direi che per farlo ci servirebbe soltanto una corazza migliore e magari anche una spada in stone Ecco, contettiamoci anche della spada in stone, soltanto che qua nessuno mi sta lasciando niente Ehi, amici, amici, per favore mi lasciate un po' di materiale perché anch'io mi vorrei equipaggiare, capito? Poi ci prendiamo una bella spada in stone e adesso siamo veramente bene equipaggiati E in più possiamo andare ad aiutare i nostri compagnetti perché il letto destro dei blu era sotto attacco dei miei compagnetti Quindi questo qua, da questa parte Se io adesso li vado ad attaccare e li vado ad aiutare i miei compagnetti Quindi aggiungendo del potere, della potenza nella loro spedizione potremmo anche riuscire a vincere C'è solo un problema, io non ho nulla per rompere il loro letto Ma sembrerebbe che il loro letto sia protetto semplicemente Perché qua non hanno continuato? Sia protetto semplicemente da lana e da legno Beh, visto che non abbiamo più blocchi Ok, stavo per fare un volo Diciamo, visto che non abbiamo più blocchi Diciamo che dobbiamo comunque aspettare per forza di morire O se non altro, cercare di uccidere tutta questa gente Come per esempio lui che ha gli occhi bianchi di Aerobrine Oh mio Dio, siamo contro Aerobrine Ma cosa pensi di fare contro l'imperatore? Aerobrine, vatti a fare una passeggiata Va, uno, due, no, 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 due Perfetto, dai, qualcun altro Vuoi venire pure tu? Vai, ok Ho ucciso Aerobrine, ho uccidero tutti i tuoi compagni, chiaro? Ecco, c'è solo un problema, ripeto ragazzi Non ho dei blocchi per tornare a casa Quindi quasi quasi inizierei a scavare un pochettino di questi blocchi Qualcosa mi dice che non mi lasceranno stare Ok, dobbiamo cercare di ammazzare tutti quanti Oh cacchio, oh no, no, dai, quattro alla volta però no E scusatemi, ehi A uno a uno vi posso battere Ma se mi venite due, tre alla volta Eh, diventa un pochettino più difficile Comunque abbiamo già fatto quattro uccisioni E non eravamo neanche equipaggiati bene Pensate se mi fossi equipaggiato bene ragazzi Avrei fatto una carneficina Quindi sapete che cosa ragazzi? Ora ci prendiamo una spada migliore E in più ci prendiamo anche qualcosa Oltre a tanti blocchi Per rompere il loro letto In modo tale da completare la nostra spedizione Quindi ci prendiamo subito una bella spadina Poi andiamo nel reparto picconi In realtà abbiamo bisogno anche di una scetta Quindi quasi quasi aspetterei un pochetto Tanto per prendermene una Dobbiamo adesso andare ad attaccare la parte destra Del loro castello Perché come avete visto Era un pochettino più debole O almeno così è sembrato a me ragazzi Siamo riusciti ad ammazzarne tantissimi Senza neanche faticare troppo Quindi secondo me Se pusciamo dalla parte destra Abbiamo molte più possibilità di vittoria Quindi amico mio Seguimi Dai vieni con me Forza Ti porto io alla vittoria Sagittarius Seguimi Andiamo Dai Insieme Senza aver paura E' questo E' questo che sta attaccando il mio compagnetto Ma come ti sei permesso Lascia stare i miei compagnetti in pace Capito Soltanto perché c'è l'armatura in diamante Ti fai più figo Ti fai gradasso Non esiste E ci sono anche tantissimi smeraldi Che potrei prendermi qua Per farmi un'armatura migliore anch'io Ne vale la pena Non lo so Nel frattempo aspettiamo lui Che vuole venire Tutto confidente Convinto di poterci battere Non sa ancora che ovviamente Gli finirà male Ok Come vedete ragazzi Vediamo il nostro compagnetto Che si accinge a battere il blu E ci è riuscito Ci sono altri due blu là sotto E noi adesso abbiamo finalmente Abbastanza blocchi Per poter fare questa spedizione Quindi Io vado a farmi un bel giretto Hanno cercato di bombardarmi Ecco Se mi dovessero bombardare Sarebbe un grosso problema Perché Morirei praticamente Quindi Come vi dicevo ragazzi Io adesso posso fare così Ok Quella cosa non doveva succedere Sono scivolato Sono scivolato Non dovevo assolutamente scivolare Quindi Facciamo finta che non avete visto Assolutamente quel fail Come vi ho detto all'inizio video Non dormo da più di 30 ore Quindi Ecco Do la colpa a quello Do la colpa al fatto che sono Mezzo tormentato Uh Questo qua sta vomitando tutti i minerali Per favore Mi vomiti un pochettino di diamanti pure Nel frattempo i miei compagni Si stanno barricando qua per bene Tutto quanto Vedete Hanno fatto una specie di castello Dentro il castello Che non so sinceramente A cosa possa servire Però sono contento Che l'abbiano fatto Così Tornando altro siamo un pochetto Protetti Quindi Adesso andiamo Finalmente Una volta per tutte A battere quei blu Che non mi piace Che siano là sinceramente Quindi Cari miei blu Venite qua e combattete Ecco parlo proprio di te Si 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 Vieni qua e combatti Non fare il codardo Hai capito Edoardo Non essere un codardo Ok l'abbiamo ammazzato Perfetto Non abbiamo perso neanche della vita E c'è qualcuno qua vicino Per caso No io non vedo nessun blu No 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 E quindi mi sa che questo è il momento Di pushare Dai dai sali Su 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 Stavolta non devo assolutamente Scivolare Beh del resto Non ci sarà nessuno Contro di me Quindi non dovrebbe essere un problema E teoricamente Non dovrei scivolare Giusto Guardate quanta gente c'è Aspettate Mi mangio una mela d'oro Li ammazziamo tutti Oppure vado direttamente per il letto Potrei andare per il letto Gli hanno rotto il letto Gli hanno rotto il letto Gli hanno rompo io Gli hanno rompo io Ok manca poco Sì 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 Dai 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 ce la faccio Dai 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 Sì gliel'ho rotto Gli ho rotto il letto Non ci posso credere Ce l'ho fatta E ne ho pure uccisi tutte e due Non è possibile Non ci credo Ho rotto il letto E li ho pure uccisi Quelli che mi stavano attaccando da prima E mi hanno scritto hacks Mi hanno chiamato un hacker Dai ragazzi Per favore Smettiamolo con queste cose Basta chiamarmi hacker Ormai tutti quanti sanno Che non sono un hacker Oh mio dio Guardate ci sono anche dei fan In partita Gli faccio un cuoricino Mi hanno chiesto Sei quello vero Sì sono io Non l'avete visto già dalla mia potenza Sto scherzando ragazzi Ripeto non dormo da 30 ore Quindi se dovessi dire qualche cretinata Non mi ascoltate Adesso andiamo subito a fare tante uccisioni Perché comunque come vedete Non ho molto per poter rompere i letti Oppure per sopravvivere Quindi l'unica cosa che farò adesso È fare tante tante uccisioni Per poi rimorire E andare a equipaggiarmi di nuovo da capo Quindi ora sono qua Soltanto per le uccisioni Venite qua Oh sì adesso ci divertiamo Oh sei bloccato Sei bloccato Meno uno Perfetto Adesso facciamo così Meno due Oh sì sei morto pure tu C'hai due cuoricini Boom sei morto E c'è qualcun altro Eh Qualcun altro vuole unirsi alla festa Di Kendall Che non dorme da più di 30 ore Nonostante ciò riesce a essere ancora un imperatore Guarda lui Oh no Favij tv Ma come Ma allora è un italiano quello Ma quello là è sicuramente un italiano Ma sto combattendo contro Favij Ma non è possibile Allora vediamo se mi attacca Secondo voi mi attacca? Sì mi vuole attaccare Allora ti attacco pure io Mi dispiace Se non mi attaccavi Ti davo anche uno screenshot Se eri fan Però visto che ho iniziato ad attaccarmi Non potevo Quindi 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 Quest'altra gente qua No 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 Non esiste che io mi faccia attaccare da voi Venite qua Oh mio dio ragazzi Oh mio dio cosa sta succedendo Cosa sta succedendo Oggi sono veramente fortissimo Forse sono i tre caffè che ho bevuto Ciao Steve vai giù Oh c'è altra gente qua vicino No 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 Io vi butto giù a tutti quanti Uno Vai scendi pure tu Scendi pure tu No 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 lui mi ammazza Non mi ha ammazzato Oh mio dio Questa partita ragazzi è la mia migliore partita in assoluto Non penso di aver mai giocato così bene alle bedwars e di aver fatto tutte queste uccisioni A parte il fail che ho fatto prima che sono scivolato Vabbè quello fate finta che non l'avete visto Ok Allora credo di essere morto solo due o forse tre volte non ne sono sicuro Quindi adesso visto che comunque quel push che abbiamo fatto ragazzi è stato più che perfetto Perché abbiamo ucciso tutti quanti abbiamo preso tantissimi materiali abbiamo 10 diamanti che andiamo a mettere immediatamente nella banca E in più non siamo neanche morti Io ragazzi spero vi sia piacendo questa partita ovviamente lasciate un mi piace se non l'avete ancora fatto E adesso ci prendiamo subito una bella mela d'oro e proviamo a fare un'altra spedizione Ragazzi questa è veramente la mia migliore partita nelle bedwars Ne sono abbastanza sicuro Credo di entrare praticamente nella leaderboard tra le kill più alte di questa partita Perché non penso che gli altri abbiano fatto più di 15 uccisioni sinceramente Quindi vedremo vedremo se possiamo arrivare al primo posto Ovviamente se adesso gioco in modo intelligente e ne faccio ancora di più sarebbe meglio Però altrimenti anche 15 sono tantissime di già 15 in più abbiamo rotto anche un letto E adesso c'è qualcuno qua con il leader Oh amico mio Amico mio ma come ti permetti Guarda questo Tu non attaccare i miei compagnetti Tu non attaccare neanche i miei compagnetti E adesso muori E tu che cosa vuoi fare? Vuoi attaccare i miei compagnetti? La regola è non attaccare i miei compagnetti Ok siamo a ben 17 uccisioni Adesso andiamo subito a casa loro ragazzi e cerchiamo di rompere No, 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 no Lui è qui mangiato un pochettino bene quindi aspettate, aspettate, aspettate Come è andato? Si sta nascondendo Si sta nascondendo lo vedete? Guardate lo sta lì Oh ciao No, no, non attaccare i miei compagnetti Ho detto muori pure tu Ok l'abbiamo ucciso Che salto Non mi ero accorto che mancassero dei blocchi E guarda quest'altro No, no, lui è un fan mi sa Sono abbastanza sicuro che fosse un fan E quindi ti ho dedicato quella uccisione Hai capito? Ok anche tu adesso c'hai un cuore rimasto Cercherà di buttarci giù in 3, 2, 1 No sta scappando e basta Vabbè allora continua pure a scappare Nel frattempo io uccido lui Ciao amico Ciao Ti è andata male Ti è andata male questa volta Siamo alla bellezza di 18 uccisioni Loro hanno perso tutti quanti i letti Quindi tutte queste uccisioni adesso Conteranno come uccisioni finale Dobbiamo soltanto riuscire a batterle tutti quanti Oh mio dio non si stanno muovendo Oh si le stanno prendendo a destra e a sinistra No, 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 no Lasciami stare Devo mangiare subito una mela d'oro Uh, questo l'abbiamo ucciso Mangio la mela d'oro Ok Oh mio dio Siamo a più di 22 uccisioni ragazzi Loro sono in 22 rimasti Questo qua che cosa sta facendo No, 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 no Non esiste Oh no Questa la spalla in diamante L'ho equipaggiato benissimo Oh cacchio ragazzi Sono fregato Sono fregato Sono fregato Ma cosa Ma Kendall non è mai fregato No ok Forse questa volta sono veramente fregato E infatti si Mi ha ammazzato Vabbè Aveva spalla in diamante Aveva l'armatura in diamante Era messo veramente molto molto bene Comunque abbiamo fatto tante tante uccisioni E restano soltanto 19 di loro Il che significa che molto presto avremo vinto la partita Sinceramente non perdo più neanche tempo a comprare delle spade migliori Dei blocchi migliori Cioè o almeno tanti blocchi Perché non ne vale più la pena Andiamo semplicemente a fare tutte le uccisioni che possiamo fare Tutti quelli che troviamo Cerchiamo di ammazzarli Perché adesso mancano pochissimi minuti O addirittura secondi Alla fine di questa partita Gli ultimi 15 saranno sicuramente camperati da qualche parte Perché hanno paura per la loro vita E vogliono restare in vita Ma sinceramente è finita amici miei Oh sì Riesco ad attraversare questo ponte senza essere buttato giù Forse Non ne... Oh mio dio Per fortuna Per fortuna ce l'abbiamo fatta E adesso andiamo ad ammazzare tutti quanti Ragazzi non ci posso credere che questa fino ad ora Credo sia la mia migliore partita in assoluto Ah tu sei quello che mi ha ucciso primo Perché eri equipaggiato meglio Vediamo adesso che cosa succede Ora ti prendi le botte Oh sì ti prendi le botte Oh mio dio siamo in 40 contro di lui Poverino Ok visto che c'ha praticamente un bel po' di loot Io direi di prendermi Che ne dite 100 mele d'oro Guardate quante mele d'oro ci possiamo comprare Oh mio dio Ne possiamo comprare ancora delle altre Ehi uscite fuori Allo scoperto Dove siete? Fatevi vedere qua dall'imperatore Kendall E c'ho la bellezza di 58 diamanti Che cavolo ci faccio ora con 58 diamanti Tra l'altro loro non ci hanno rotto neanche un letto Abbiamo proprio dominato Abbiamo dominato in questa partita Ok ne resta uno soltanto in vita Aspettate vediamo che cosa possiamo comprare Con 58 diamanti Oh mio dio con 100 diamanti ti fa comprare il protection 3 Adesso abbiamo il protection 3 La partita finirà da un momento all'altro ragazzi E quello si pentirà di aver perso così tanto tempo a nascondersi da qualche parte Vediamo se riesco a trovarlo io Volete vedere che si trova all'interno di una di queste torri No abbiamo vinto noi e io ho fatto la bellezza di 23 uccisioni Il secondo ne ha fatte 12 Vi rendete conto ragazzi? Ho fatto quasi il doppio delle sue uccisioni Oh mio dio però era anche un fan Quindi complimenti al fan che ha fatto 12 uccisioni Ragazzi lasciate un bel mi piace se vi è piaciuto questo video Io mi sono divertito veramente tantissimo a registrarlo E adesso mi vado a fare un pisolino Dal vostro imperatore Kendall è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao